Si è tenuta la quarta edizione del progetto Esistenze, che anche quest'anno ha fatto dialogare e lavorare insieme per un anno interi bambini e anziani, fino a farli recitare e ballare fianco a fianco. Esistenze è realizzato dal CTA di Gorizia, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune e alla Provincia, che hanno permesso di realizzare uno spettacolo teatrale itinerante a tappe da attori decisamente insoliti, sei classi delle elementari e 61 anziani ospiti delle strutture per la terza età della Regione. Filo conduttore dello spettacolo teatrale e della coreografia che ha concluso l'evento in Piazza Unità d'Italia con la partecipazione di 600 bambini, è stato quest'anno il libro di Roberto Vecchioni, il libraio di Selinunte, che non a caso tratta del valore e dell'essenza delle parole. Sono stati circa un centinaio gli incontri svolti nelle scuole per preparare questo spettacolo al meglio. Anziani e bambini hanno lavorato insieme sia nella creazione del testo teatrale, nato dal dialogo intergenerazionale, sia nella sua interpretazione. Il progetto Esistenza ha rappresentato così un modo efficace per riflettere sulla comunicazione tra le diverse generazioni. Il progetto ha evidenziato un percorso virtuoso che si apre a partire dall'incontro tra anziani e bambini. In un primo momento, quando si mettono insieme generazioni diverse, se ci si ferma allo stereotipo non c'è comunicazione. La comunicazione diventa reale, profonda e costruttiva quando si lascia loro il tempo di conoscersi. Bambini e anziani hanno moltissime opinioni in comune perché si sbilanciano a dire verità che nessuna persona di mezza età si sognerebbe di esprimere.